Lo spread esprime la distanza tra il rendimento che c'è sui titoli di Stato italiani e il rendimento che c'è sui titoli di Stato tedeschi, proprio perché la Germania viene considerata il paese più sicuro tra quelli dell'area dell'euro. Questa distanza di rendimenti è misurata su dieci anni in modo convenzionale, quindi oggi noi abbiamo uno spread che è intorno ai 320-330 punti base, anche se sappiamo che questa misura è molto volatile, il che vuol dire che lo Stato italiano si può finanziare a un costo maggiore rispetto a quello a cui lo Stato tedesco si può finanziare per appunto 3,2-3,3%. Questo è un indicatore che esprime il rischio paese, quindi quanto un paese è percepito rischioso agli occhi degli investitori domestici ma anche investitori internazionali. Questa misura ha delle implicazioni anche sulla vita di tutti noi. Perché questo? Perché tra i principali finanziatori del sistema economico e finanziario nel nostro paese ci sono le banche. L'innalzamento dello spread è un elemento che ha un effetto su come le banche raccolgono capitali sul mercato. Ha un effetto anche sul portafoglio titoli delle banche. Quindi sono due le implicazioni importanti. Il costo al quale le banche si finanziano sul mercato sta crescendo per effetto dell'innalzamento dello spread. Le banche registrano perdite sul proprio portafoglio titoli di Stato perché aumentando i rendimenti sui titoli di Stato, e questo allarga lo spread, il valore di questi titoli nel bilancio delle banche si riduce. In modo particolare l'effetto con il quale noi vediamo la trasmissione sulle famiglie e sulle imprese è proprio relativo al costo della raccolta. In altri termini, se le banche si finanziano a costi della raccolta crescenti, a loro volta per generare un certo margine dovranno impiegare, prestando denaro a imprese e anche a famiglie, a tassi crescenti. Il che vuol dire che dobbiamo abituarci, se gli spread rimarranno a questi livelli, a questi valori, ad accedere a mutui, a prestiti, a tutto quello che è il mondo dei finanziamenti bancari, a condizioni peggiori. Cioè il costo di queste operazioni per famiglie e imprese è destinato ad aumentare. Questo non è responsabilità delle banche, ma è la necessità delle banche di poter equilibrare a loro volta un costo della raccolta che aumenta con dei tassi di impiego verso la clientela, imprese e famiglie che a loro volta aumentano.